Sorella! Sorella! Io ti credo! Che anche nel 2020 i diritti non sono mai conquistati per sempre, non si può abbassare la guardia perché è un attimo che ce li tolgano quindi è importante essere qui per far sapere che ci siamo, siamo presenti, che siamo sorelle anche tra di noi, ci sosteniamo e che insomma lotteremo davanti a qualunque tentativo di toglierci i nostri diritti. Salutiamo Dana, salutiamo Francesca, salutiamo Stella e ricordiamo! Solo fino ad oggi quest'anno ci sono stati 108 femminicidi, quindi circa uno ogni 72 ore, un po' di più in verità e sono secondo gli ultimi dati 89 le donne che ogni giorno, ogni giorno, denunciano una qualche forma di reato legata alla violenza di genere dallo stalking alla condivisione di materiale online, alle vere e proprie percosse a tutta un'altra serie di forme di molestie sul lavoro, dentro casa e quindi come dire 89 ogni giorno significa un numero altissimo durante tutto l'anno ma soprattutto se pensiamo che sono tante invece le donne che ancora non denunciano perché le nostre istituzioni sono inadeguate ad accogliere le denunce delle donne. Grazie! 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 Grazie!